Vangelo di domenica 13 marzo 2022. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti da 28b a 36. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva, questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. In questa seconda domenica di Quaresima, dopo averci portato nel deserto, la Chiesa oggi ci porta sul Monte Santo. Non sappiamo quale monte sia, secondo la tradizione, il Monte Tabor, questa collina che si erge solitaria nella pianura della Galilea. È un brano a cominciare proprio dal monte, pieno di riferimenti all'Antico Testamento. Sul Monte Sinai non si può non fare questo aggancio. Dio si rivela, Dio si manifesta. C'è una teofania, che vuol dire proprio manifestazione di Dio. E su questo monte Gesù manifesta la sua divinità, la luce, lo splendore che forma, potremmo dire, la sua identità profonda. E tutto il suo corpo e perfino il vestito diventa tutto luce. È il ritorno allo stato primigenio, a quel giardino dell'Eden, dove Adamo, secondo la tradizione dei rabbini ed Eva, avevano un vestito di luce. È il nuovo Adamo che riassume in sé la storia della salvezza. Mosè ed Elia, la legge e i profeti appaiono accanto a lui. Arriva la nube, un altro segno della presenza di Dio, la nube che guidava il popolo di Israele, nube di giorno, colonna di fuoco di notte durante il cammino dell'Esodo per 40 anni. E arriva la voce del padre, quella voce che era risuonata già al Giordano durante il battesimo, ora risuona ancora una volta. Questo è il mio figlio, l'eletto, il prescelto, l'amato. Ascoltatelo. C'è una visione che rimanda alla voce, a una voce. Dio è voce e in Gesù diventa volto. Perché la Chiesa ci fa leggere questo Vangelo nella seconda domenica di Quaresima? Perché dopo averci additato la strada, il deserto, ora ci addita la meta, il monte, cioè la trasfigurazione. Siamo chiamati anche noi a diventare luce. Dal giorno del battesimo, quando ci è stata imposta la veste bianca, è iniziata la nostra trasfigurazione, la nostra trasformazione in Gesù, la nostra trasformazione, il nostro passaggio dalle tenebre alla luce, dall'egocentrismo all'amore, dal peccato alla grazia. La vita è questo lungo passaggio che ci assicura, alla fine, a proda nella luce. Come dice padre Ronchi, il mondo non finirà nel fuoco, ma nella bellezza. Ecco, è a questa bellezza, la bellezza di Cristo, che noi dobbiamo guardare perché solo chi intuisce e fa esperienza della luce del tabor, potrà poi sopportare e passare per le tenebre del Gezzemani e del Calvario. Chiediamo al Signore che quei momenti di luce che nella nostra vita abbiamo vissuto non vadano mai persi dalla nostra memoria per poter attraversare poi le valli oscure che ci attendono. Buon cammino di trasfigurazione.